Ci sarà molto di italianità, nel senso che comunque quello che ha reso l'Italia nel mondo affascinante, io uso tutte queste armi dell'Italia in qualche modo, dalla luce all'opera, a tanti elementi che però non voglio spiegare, per me anche sarà un rinnovamento di staccarmi di alcune cose, di cambiare. Ci saranno delle belle sorprese sui luoghi, sono ormai proprio entrato nel senso che giorno a notte penso il progetto, io voglio sorprendere anche il pubblico che già ha visto le fate, lo voglio un po' spiazzare. Ci sarà un episodio che verrà girato a Istanbul, sì, che dopo quasi tre anni tornerò a Istanbul, pensa. Però insomma anche quello mi emoziona abbastanza perché anche lì colpiremo con la luce, con le cose.